Allora facendo adesso seguiamo il percorso il mio video ciclistico per farvi vedere dove tramonta il sole. Procedendo avanti vado verso i piedi della montagna e quindi il sole sarà tramontato. Guarda, seguitemi piano piano, piano piano, bello. Questa è la via dei pazzi. Ecco la prima auto che soffassa. Guarda che bel percorso, ingandevole, suggestivo. Io procedo brandamente per piano per gustarmi e assaporare il relax salutare. Guardate un po' l'aereo inguinato. Certamente un mese fa era consigliabile camminare a piedi o in bici. Buona mattina o presto o la sera, quando vi tramonta il sole. Ecco qua, vedete? E qui tramonta il sole. Più avanti, eh? Qui ci sono gli alberi. Guardate quanto è bello il Luco de Marzi. Ma in settimana penso di andare a pescare con gli bici. Penso. Allora, il giorno 6 di ottobre 2023, da Luco de Marzi, sono andato alla provincia di Rieti. Precisamente Luco, poi Pietra Secca, Tufo, Nespole, Poggi Cinoppo, Carzoli e poi sono tornato al Luco de Marzi sui 130 km. Nu ci sono voperinge, attraverso il luco in Poggi твоi... Grazie a tutti